150 anni dalla nascita della Croce Rossa internazionale. Vediamo. Abbiamo in studio l'onorevole Antonio Mazzocchi, esponente del Popolo della Libertà e questore della Camera. Onorevole Mazzocchi, innanzitutto, qual è l'attività di un questore? Ma il questore, insieme ad altri due colleghi questori, gestisce il patrimonio della Camera dei Deputati. Ma non basta questo, si prepara il bilancio e segue anche tutto ciò che riguarda la normale amministrazione di una Camera di Deputati. Direi che se si potesse, così, in maniera da far capire un po' anche a coloro che ci ascoltano, in questione un po' l'amministratore delegato del Palazzo di Montecitorio. A proposito del bilancio che lei ha citato, è stato approvato quello della Camera poche settimane fa, con un consenso amplissimo, nessun voto contrario. Significa che avete fatto un buon lavoro? Ma io credo, i giornali non l'hanno riportato, credo che sia la prima volta nella storia della Repubblica che un bilancio passa con la totalità dei consensi, le maggioranze delle posizioni soltanto con 4 o 5 astenuti. Questo perché? Non mi voglio fare, direi, un merito perché il merito va a tutto il collegio dei questori e soprattutto a un'amministrazione, ai vertici abicali di questa amministrazione che hanno saputo consigliarci come poter redigere bene questo verbale e come rispondere ad alcuni ordini del giorno. Vedi, su 23 ordini del giorno che sono stati presentati da maggioranza e opposizione, tranne 3 tutti sono stati accolti o accolti con raccomandazione. Perché? Perché erano tutti ordini del giorno che miravano a sì a un contenimento della spesa, ma sempre a un miglioramento dei servizi. E su questa indicazione che tra l'altro il Presidente della Camera Fini ci ha dato, noi abbiamo fatto in modo non soltanto che per la prima volta, sempre nella storia della Repubblica, questo bilancio si chiudesse con un avanzo ben sostanzioso e con dei fondi di riserva ben sostanziosi, ma dire soprattutto abbiamo fatto in modo che alcuni punti molto criticati, giustamente o ingiustamente, non lo sta a me dire dalla Repubblica, sono stati affrontati e risolti in maniera positiva. Ecco, c'è un elemento importante, saliente forse, per quanto riguarda i costi, cioè che la Camera nei prossimi anni non costerà di più allo Stato. C'è un blocco, diciamo così, della dotazione. Sì, noi già abbiamo detto che per i prossimi tre anni non chiederemo neanche una lira del famoso adeguamento annuale che la Camera chiede al Ministero competente. Questo proprio per quella politica che è stata fatta nel corso degli anni di massimi risparmi e di massimo contenimento delle spese. Ma io, al via del contenimento delle spese, io vorrei dire che noi ci stiamo avviando anche a un discorso che porterà forse dei grandi vantaggi alla Camera. Faccio un esempio, tutti sanno che noi abbiamo in locazione diversi immobili, perché i 630 deputati devono avere giustamente un loro spazio. Queste locazioni vanno a concludersi fra tre o quattro anni. Noi spieghiamo, sia con i mezzi che abbiamo, sia attraverso altre forme, di poter acquistare direttamente questi immobili, in modo tale che tutto ciò che la Camera spende poi rimane di proprietà della Camera. Ma questo sarebbe un grosso successo. Lei pensi che soltanto per il Palazzo Marini, per 1, 2, 3, 4, la Camera spende diversi milioni di euro all'anno? Ebbene, se potessimo anche dire che quei milioni invece sono patrimonio poi della Camera aiutati, sarebbe un grande successo. Questo è un punto che noi ci siamo prefissati e credo che lo possiamo raggiungere prima della fine della legislatura. Rimaniamo per un istante su un aspetto di carattere generale. Lei come risponde a quella parte della pubblica opinione che magari non si accontenta nemmeno di questi piccoli passi vorrebbero dei tagli di carattere generale ai costi, ad esempio, del nostro palazzo? Ma vede, noi dobbiamo stare attenti talvolta a una demagogia che imperversa sull'opinione pubblica. Non c'è dubbio che tutto si può limitare anche alle spese, anche in alcuni benefit dei parlamentari. Però stiamoci attenti che quando si fu l'unità d'Italia c'erano i cosiddetti baroni, non universitari, ma i nobili, che non volevano una lira perché loro volevano amministrare il regno d'Italia in altre maniere. Io non vorrei che con questa demagogia poi si presentassero soltanto al Parlamento deputati industriali e grandi ricchi. Noi vogliamo invece che il Parlamento sia sempre rappresentato da operai, da impiegati, da professionisti, dalla società civile. Allora per far questo bisogna pure fare in modo che siano pagati nel giusto i parlamentari, fermo restando che se ci sono alcuni dei leggi, noi stiamo togliendoli, toglieremo questi dei leggi. Senta, una delle caratteristiche del bilancio è stata anche la trasparenza, sempre maggiore nei confronti della pubblica opinione, che ha diversi modi per conoscere l'attività dei parlamentari. Ecco, sono stati approvati anche degli ordini del giorno, che voi come Collegio dei Questori avete subito accolto. Sarà possibile riconoscere anche la situazione patrimoniale dei parlamentari? Sì, ma tenga presente che tra le altre cose la situazione patrimoniale dei deputati già è conosciuta perché come lei sa dal 2001 vi è una legge che impone che ogni parlamentare, anzi adesso io proprio prima di venire qua se ho fatto ritardo perché sono stato all'ufficio competenza dei parlamentari ho denunciato la mia situazione patrimoniale, ho depositato. Noi come parlamentari siamo obbligati, ed è giusto, a depositare presso la Camera dei deputati la nostra situazione patrimoniale annuale con eventuali variazioni. Però la legge dice pure che lei giornalista può vedere, che qualsiasi cittadino può richiedere la situazione patrimoniale di Don Nero Mazzocchi. Certo, come qualche parlamentare vuole che sia messo sul sito internet, noi abbiamo difficoltà per un discorso di privacy, perché sul sito internet anche il mio ripote che ha 14 anni potrebbe vedere la situazione patrimoniale di questo o di quel deputato e questo non è previsto dalla legge. Sta diminuendo anche il numero dei dipendenti della Camera dei deputati con il blocco del turnover. Questo può comportare dei rischi di minori prestazioni, diciamo? No, perché le indicazioni che ci ha dato il Presidente Finito che sia utile, un blocco del turnover ma selettivo. Che cosa significa selettivo? Che lì dove ci sono le esigenze di riqualificazione noi possiamo prendere del personale e riqualificarlo e anche, casomai, assumerlo da graduatorie. È evidente però che alcune funzioni di personale, soprattutto esecutivo, io credo che alla lunga debbano essere esternalizzate. Noi dobbiamo diminuire i costi dell'amministrazione e aumentare sempre di più l'efficienza di questa amministrazione. Ci sono dei gradi apicali che vanno non bene, benissimo. Ci sono dei funzionari squalificati e dobbiamo potenziare proprio questa parte dell'amministrazione. Ecco, tra Presidenza e Collegio dei Questori, ufficio di Presidenza, avete da tempo affrontato anche il nodo dei cosiddetti portaborze che ormai con il mese di luglio hanno un inquadramento più chiaro. Direi che, guardi, il Presidente Finito ha voluto giustamente che chiunque, qualsiasi parlamentare, abbia un collaboratore deve depositare il contratto che ha con questo collaboratore. È evidente però che il rapporto non è il rapporto fra la Camera dei Deputati e il collaboratore, ma è fra il parlamentare e il collaboratore. Noi rimaniamo fuori da questa situazione, che però vogliamo sia sempre più chiara e trasparente. Ecco, vorrete fare un passo indietro. Lei prima ricordava i benefits, ad esempio, di parlamentari, ma anche di ex parlamentari. Ecco, in occasione del bilancio si è intervenuti anche su questo. Dobbiamo anche lì essere molto attenti, anche perché ex parlamentari diventiamo tutti. È evidente che ci sono dei benefit che alla lunga possono essere tolti agli ex parlamentari. Faccio un esempio, la diminuzione delle spese di viaggio, di altre situazioni si può fare, però non togliere quelle situazioni che invece sono utili soprattutto per ex parlamentari anziani. Andone Mazzocchi, noi non possiamo concludere questa conversazione senza parlare del mezzo che ci ospita, il canale satellitare e del web. La Camera ha fatto dei passi veramente importanti in quest'ultimo anno. Sempre più di attività è possibile seguirle sul web o sul canale. Qual è la vostra opinione e quali investimenti ancora sono possibili? Questa è stata una scelta positiva, noi ci auguriamo di migliorare sempre più, perché attraverso questa scelta finalmente abbiamo già risposto che i cittadini sono più vicini alla politica. E questo è un dato positivo. Bene, ringrazio il donorevole Mazzocchi, esponente del Popolo della Libertà e il questore della Camera dei Deputati. Grazie. Grazie.